Buongiorno e benvenuti alla nostra iniziativa volta a discutere gli aspetti geologici di Siena, bellissima città d'arte, sito UNESCO e patrimonio culturale dell'umanità di cui oggi Marco Giamello e io diamo una presentazione. Come affrontare un tema che lega la geologia a un sito UNESCO? Questo è relativamente facile da fare se ci troviamo in un geoparco che ha proprio come tematica specifica la geologia. Questa iniziativa però è meno facile da intraprendere nel caso in cui descriviamo il patrimonio culturale di una città d'arte. Un buon esempio di un connubio felice fra geologia e città d'arte è stato offerto da Matera, città cultura del 2019. A Matera il patrimonio artistico della città è intimamente legato al patrimonio geologico. Noi vogliamo utilizzare questo approccio per descrivere la geologia che sottende alle bellezze artistiche e alla vicenda storica della città di Siena. La città di Siena nella sua storia geologica occupa una posizione che per diverso tempo è stata occupata dal mare e quindi gran parte della Toscana nel corso degli ultimi milioni di anni si è trovata al di sotto del livello del mare. In queste immagini in sequenza vediamo che a partire dal miocene superiore parte della fascia costiera toscana era occupata dal mare. Durante il pliocene inferiore il mare ha avuto il suo massimo sviluppo e ha occupato gran parte della Toscana occidentale. Dal mare di allora emergevano solo degli arcipelaghi o delle grandi isole. Successivamente il mare ha iniziato a ritirarsi facendo riemergere progressivamente il territorio dei rilievi circostanti a quello della città di Siena. Ed infine, ed infine, in epoca più recente, gran parte del mare si è ritirato lasciando spazio a quello che oggi è il territorio della Toscana meridionale. Se ci focalizziamo nel momento in cui il mare ha avuto il suo massimo sviluppo noi possiamo vedere una possibile rappresentazione di come doveva essere l'ambiente naturale e in questo ci aiutano le giornate di nebbia o le giornate in cui è sparsa una nuvolosità bassa perché dalle nuvole che imitano o che evocano la presenza del mare emergono i rilievi che noi vediamo come isole. Questo si vede bene quando c'è una nebbia bassa o un livello nuvoloso basso dal quale emergono i rilievi e addirittura quando le nuvole sono molto compatte queste creano l'effetto di qualche cosa che emerge dal livello del mare, esattamente come vedremmo noi oggi un rilievo insulare, per esempio l'isola d'Elba, dalla attuale costa toscana. Come si vede dalla carta geologica l'attuale città di Siena durante la massima estensione del mare si trovava in un'insenatura marina. Quest'insenatura marina era delimitata a est dai rilievi dei Monti del Chianti, dorsale di Rapolano che scendeva fino al Monte Cetona, a ovest era delimitata dalla dorsale Monticiano-Roccastrada-Monte Leoni. Tutto ciò che c'era nel mezzo era occupato dal mare che qui è indicato in colore giallo, quindi i rilievi circostanti alla città di Siena, la attuale Val d'Arbia e l'attuale Val d'Orcia. Se vogliamo vedere una rappresentazione verticale attraverso la città di Siena una sezione geologica ci aiuta a vedere la distribuzione delle varie rocce. La città di Siena è quindi costruita su depositi di origine marina, abbiamo alla base delle argille che passano a sabbie argillose verso l'alto per poi lasciare spazio a un cospicuo spessore di sabbie intercalate alle quali ci sono degli orizzonti di ghiaie e conglomerati. Proprio le sabbie costituiscono una risorsa molto cara ai senesi, la risorsa ricavata dal passaggio fra sabbie e sabbie argillose prelevate in queste zone qui viene sparsa. Queste sabbie due volte all'anno vengono sparse sull'anello che circonda la piazza del campo per rendere possibile la corsa dei cavalli il palio famoso in tutto il mondo. Anche Ambrogio Lorenzetti ha dipinto nell'allegoria del buon governo elementi importanti della geologia senese. Nel medioevo Siena era una repubblica indipendente la cui chiave di successo era la possibilità di approvvigionamento di acqua e di cibo. Per quanto riguarda l'acqua abbiamo un sistema del quale parleremo fra poco, per quanto riguarda il cibo abbiamo coltivazione a vite, olivo, cereali e allevamento. Ma l'elemento geologico impresso nell'opera di Ambrogio Lorenzetti è la dualità del paesaggio che è costituito da rilievi scolpiti che vediamo sullo sfondo e da dolci rilievi collinari che vediamo in primo piano. Gli stessi elementi del paesaggio li vediamo in una foto attuale. In primo piano vediamo dolci rilievi collinari che rappresentano quello che era il riempimento del bacino marino e sullo sfondo vediamo invece un paesaggio scolpito caratterizzato da dorsali elevate costituite da rocce più antiche che rappresentavano le isole emergenti dal mare. Il motivo che ha condotto a dorsali elevate e a valli riempite di sedimenti marini è un motivo tettonico legato quindi alla dinamica terrestre. Durante il Plioscene il territorio della Toscana è stato soggetto a sforzi distensivi che hanno generato strutture particolari che i geologi chiamano faglie dirette. Quando le faglie dirette convergono verso il basso queste delimitano dei blocchi che sprofondando durante movimenti distensivi favoriscono l'ingresso dell'acqua marina. La geologia si vede anche direttamente sul terreno, qui per esempio vediamo degli strati marini orizzontali ma questi strati marini occasionalmente sono interessati proprio da quelle strutture, da quelle faglie che ribassano i blocchi favorendo l'ingresso dell'acqua marina. Molto spesso queste faglie assumono proporzioni importanti e in questo caso determinano l'accostamento di rocce diverse, qui vediamo delle ghiaie da una parte e delle sabbie dall'altra. Quando le faglie divergono verso il basso queste determinano la presenza di pilastri sollevati e isolati. Un elemento sollevato di questo genere lo vediamo anche nella sezione geologica nella zona compresa fra il Duomo e il convitto del Tolomei. Per la realizzazione dei grandi edifici la geologia ha giocato un ruolo molto importante nel garantirne la stabilità. Lo vediamo con la costruzione del Duomo e lo vediamo anche con la costruzione della Basilica di San Domenico. Una panoramica della Basilica mostra che questa è stata costruita sopra alle sabbie che vediamo in fondo alla scarpata, ma vista dal basso la Basilica appare appoggiata su uno spesso orizzonte di ghiaie e conglomerati che appunto ne garantiscono la stabilità. Fenomeno analogo si osserva nei pressi della cattedrale, del Duomo. Gli edifici circostanti alla cattedrale mostrano dei segni di affioramenti naturali di rocce, ancora una volta conglomerati, che proiettati vanno a rifinire al di sotto della cattedrale garantendo appunto la stabilità di questa grande opera e di questo grande edificio. La geologia ha anche portato un contributo a un annoso problema della città di Siena, quello dell'approvvigionamento idrico. La scarsità di acqua già portò Dante Alighieri nella Divina Commedia a prendere in giro i senesi che cercavano un mitico fiume sotterraneo denominato la Diana. Il problema però di come portare l'acqua a Siena si pose nel momento in cui la città crebbe di importanza e come popolazione. Se guardiamo gli acquedotti attuali, oggi l'acqua a Siena è convogliata da sorgenti poste a diverse decine di chilometri, quindi localizzate nel Monte Amiata a sud-est e nella montagnola senese a ovest. invece nell'epoca medievale si trattava di trovare l'acqua nei dintorni della città di Siena. Gli architetti e gli ingegneri escogitarono un sistema strategico molto molto efficace per intercettare l'acquifero che si trovava a circa 10 chilometri a nord della città e convogliando diverse acque di diverse sorgenti in un unico acquedotto sotterraneo che passava al di sotto al di sotto della città di Siena. In epoca medievale la città di Siena era attraversata in senso longitudinale da un'importante asta di comunicazione, la via francigena importante per il pellegrinaggio e è interessante notare come l'acquedotto sotterraneo segua fedelmente il percorso della via francigena. Accanto alla via francigena si estende la piazza del campo, il cuore della vita civica senese, la cui forma non è casuale ma la forma di conchiglia che conosciamo e che vediamo in questa foto scattata dall'alto ha la funzione di raccogliere le acque piovane in corrispondenza del gavinone che è un centro di raccolta volto al riempimento dell'acquedotto sotterraneo. Un altro elemento dell'idrogeologia medievale lo vediamo nella splendida fonte Gaia che è la fontana che vediamo in alto in questa figura, anche questa alimentata con l'acqua dell'acquedotto sotterraneo. Gli acquedotti medievali sono scavati all'interno proprio delle sabbie che costituiscono il substrato della città di Siena. Vediamo alcune immagini tratti da bellissimi libri fotografici, vediamo proprio le opere di escavazione e in fondo le canalette di raccolta dell'acqua. Sulle pareti di queste opere ogni tanto compare anche la traccia di qualche organismo marino vissuto durante il Pliocene, epoca in cui si è avvenuta la sedimentazione delle sabbie. Nei bottini vediamo la canaletta che funge da veicolo per la trasmissione dell'acqua e in genere gli architetti sono stati bravissimi a dare alle canalette le giuste pendenze per regolare un flusso di acqua costante. Ci sono però delle zone in cui la pendenza imposta dalla geologia locale era una pendenza superiore. In questo caso, in questo caso, per rallentare il deflusso sono stati fatti delle anze e dei meandri artificiali proprio per rallentare il deflusso delle acque. Il centro di raccolta delle acque principalmente sono le grandi opere pubbliche monumentali, quindi le grandi fonti monumentali che avevano scopi diversi. Le fonti raccoglievano le acque nelle quali venivano destinate prima ad uso idropotabile, poi ad uso di lavaggio, per esempio per il lavaggio della biancheria, poi all'uso del lavaggio per la tintura della lana e infine all'uso del idrico necessario per la concia delle pelli. La fonte che vediamo, fonte branda, è proprio vicina ai macelli e veniva utilizzata per tutti questi scopi, quindi l'acqua arrivava all'estremità di questa fonte, scorreva verso il punto di osservazione e serviva a tutti questi scopi. La storia dello sfruttamento della risorsa idrica in epoca medievale viene raccontata e costituisce l'oggetto di un'opera museale che è il Museo dell'Acqua che non a caso è stato realizzato in una delle fonti monumentali che è la fonte di pescaia. La geologia controlla molto efficacemente anche la circolazione dell'acqua nelle rocce del sottosuolo, in particolare il sottosuolo è fatto in alto da rocce permeabili che si lasciano attraversare, quindi sabbie e conglomerati, e invece passando verso il basso alle sabbie si sostituiscono le sabbie argillose e le argille che hanno invece caratteristiche di impermeabilità. Quindi che cosa succede in una giornata di pioggia? L'acqua piovana si infiltra nel terreno e percola attraverso le rocce permeabili andando però a fermarsi in corrispondenza del contatto che separa le sovrastanti rocce permeabili dalle sottostanti rocce impermeabili. Queste rocce del substrato hanno fornito materiale per la realizzazione di importanti edifici cittadini. Un esempio è quello di Palazzo Spannocchi, oggetto di studio in occasione di un importante intervento di restauro delle facciate. Qui possiamo vedere un aspetto macroscopico di un concio del bugnato di Palazzo Spannocchi. È da sottolineare che l'arenaria pliocenica è nota in città con la denominazione di tuffo, detto talvolta anche tuffo impietrito per distinguerlo dalle sabbie. L'arenaria pliocenica, come possiamo qui vedere in sezione sottile al microscopio, è quindi costituita da quarzo, altri minerali silicatici, frammenti di rocce, ossidi e idrossidi di ferro. Il tutto legato da un cemento carbonatico che la rende estremamente compatta. L'area principale di provenienza dell'arenaria pliocenica è ubicata ad ovest della città, all'interno della formazione delle sabbie e conglomerati del pliocene. In questa immagine possiamo vedere un raro affioramento di arenaria in senso stretto, cioè di roccia coerente e non di sabbia sciolta. Nei conci della facciata di Palazzo Spannocchi si osservano elementi caratteristici del processo di sedimentazione delle arenarie, come ad esempio la presenza di elementi litici esotici. Si osservano inoltre forme fossili di bivalvi diffusi in diverse porzioni della facciata. Un fenomeno che si osserva frequentemente sulle spiagge attuali è l'occasionale presenza di gomitoli di sabbia. Si tratta del risultato del filtraggio delle sabbie da parte di organismi vermiformi che si nutrono delle sostanze organiche contenute nella sabbia stessa. Le tracce della presenza di analoghi organismi di età pliocenica si possono osservare in questo concio tagliato parallelamente al letto di sedimentazione. Siena, sito di rilevanza internazionale UNESCO, deve la propria fama al suo inestimabile patrimonio storico, artistico, architettonico e alla vicenda storica. Ma è la geologia che, avendone predisposto l'insieme delle condizioni ambientali, idrogeologiche e meccaniche, oltre ad aver fornito i materiali da costruzione, ha impresso alla città quell'impronta indelebile che la contraddistingue da ogni altro posto. In altre parole, Siena è bella e varia perché bella e varia è anche la sua geologia. L'Italia possiede la maggior parte dei siti patrimonio dell'umanità. Quando li visitiamo, apprezzandone le bellezze storiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche, teniamo ben presente che quanto ammiriamo estasiati ne riflette anche una peculiare, straordinaria storia geologica. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie mille per la vostra attenzione. Grazie a tutti.